Settembre, nell'università, è il mese dei test d'ingresso. Oggi siamo alla Luspio a seguire la prova d'accesso per la laurea magistrale in traduzione specialistica e interpretariato. Su 206 iscritti, 150 avranno l'opportunità di accedere ai corsi. Ascoltiamo le impressioni dei candidati. Come ha dato il test? Ma, potevo fare meglio. Insomma, potevo fare meglio. La prima prova era una sintesi di un brano in italiano e noi l'abbiamo svolto in cinese e diciamo che era difficile. Era un po' tosto, però, insomma, ho visto che ho fatto. Speriamo. In cosa consiste la prova? Consisteva la prima e seconda prova in due brani scritti in italiano da fare nella lingua d'arrivo, quindi ho in inglese e per me il cinese, quindi speriamo che è andata bene. Di cinese, che era la prima lingua, il testo era molto difficile, preso solo le 24 ore, quindi molto difficile. Ho cercato di mediare un po' di riassume, speriamo. Come mai hai scelto questa magistrale? Perché dicono che sia la migliore e che ti offre più opportunità di lavoro, sicuramente, rispetto alle altre. Io mi sono già laureata qui, quindi penso sia la migliore per quello che riguarda fare l'interprete, i traduttori, credo sia la migliore. Per il mio percorso di triennale era, insomma, uno dei migliori, insomma, che potevo scegliere. Per il mio percorso di triennale, insomma,